musica wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video e sono xyuder e ragazzi oggi parliamo di un sacco di novità ma di cose veramente incredibili relative ai prossimi giorni di fortnite per la precisione ragazzi prima di dirvi tutto quello di cui parleremo vi ricordo ragazzi i nostri soci i nostri compagni i nostri grandi amici il gruppo telegram di fortnite italy ragazzi passate anche da loro iscrivetevi perché ci sono un sacco di news sempre aggiornate ovviamente su fortnite trovate il link in descrizione nel video di oggi ragazzi volevo appunto cercare di far partire la slideshow che ovviamente non sta partendo vediamo se parte la ok parleremo ragazzi del passaggio segreto vi mostrerò ragazzi come da poche ore a questa parte è possibile per ognuno di voi senza bisogno di nessun glitch raggiungere le uova e parti incredibili del castello non perdetelo parleremo anche ragazzi di una roba incredibile successa nell'evento di capodanno vi farò vedere un altro video dove si evince che è ufficiale praticamente il cubo ragazzi secondo quello che vedrete potrebbe tornare e diremo poi due statistiche su quello che ha fatto ninja per chiudere il l'anno del 2018 quindi ragazzi mi raccomando un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al canale in tantissimi e attivate la campanella per non perdere nessun aggiornamento di fortnite due secondi per la domanda di oggi ragazzi lo sapete che io ci tengo la domanda ve la voglio fare ragazzi qual è il tuo deltaplano preferito quello che ti viene in mente il più bello qua sotto ragazzi i vostri commenti il mio personalmente l'ho perso è il vice re ragazzi era lì sotto era lì di fianco quello del noir a me piace davvero tantissimo lo metto quasi a pari del beer force one il deltaplano del love ranger ma quindi ragazzi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito a vedere quello di cui vi parlavo questa ragazzi è un'immagine uno zoom sulla palla da discoteca che è apparsa praticamente ogni ora dalle ore 11 del giorno 31 dicembre di mattina fino al primo gennaio per la mattina quindi ha fatto ogni ora in ogni parte del mondo era capodanno e abbiamo visto quindi più di 20 eventi ma ragazzi guardate queste immagini così sembra normale ma prima di farvi vedere il video vi faccio vedere con una correzione di colore guardate che roba sono le rune del cubo non dico bagianate ragazzi guardate un po' questa clip che vi mostro questa l'ho fatta io proprio dal mio replay questa è la palla della disco guardate è già sistemato il colore ragazzi sono le rune del cubo incredibile non ci posso davvero credere e mi sta un pochettino anche venendo da vomitare perché io non posso immaginare che ci sarà un nuovo cubo ragazzi non lo posso immaginare abbiamo vissuto tutta la season 6 tutta la season 5 con il cubo che andava a destra andava a sinistra e poi non sapeva cosa fare e poi si ribaltava e poi faceva casino insomma ragazzi questo cubo ci ha fatto un pochettino dannare ma sembra davvero ufficiale il fatto che tornerà non si sa sotto quale forma abbiamo già visto l'ansia mi viene a pensare al cubo abbiamo già visto ragazzi come in un paio di video fa vi ho fatto vedere che sotto al castello con un glitch si vede evidentissima una runa viola del cubo quelle che siamo abituati a vedere quindi ragazzi prepariamoci mettiamoci l'anima in pace e vediamo come andrà avanti questa cosa vi voglio anche far vedere ragazzi questa immagine una curiosità che è molto interessante queste ragazzi le scritte in bianco potrebbero anzi quasi certamente saranno tre nuove feed di eliminazioni che vedremo forse in questa season o addirittura nella prossima come vedete abbiamo rbk elevate non abbiamo idea di che cosa sia funk bomb quindi ci sarà un nuovo tipo di bomba ballerina che può in qualche modo killare gli avversari e il ghost cajun che davvero ragazzi non abbiamo idea di che cosa siano io ve li faccio vedere con prepenso quattro mesi di anticipo però voi tenete lì e poi non ditevi che lo xuder non vi fa vedere i leaks quei bei sugosi quei bei sugosi andiamo avanti ragazzi andiamo avanti e parliamo un secondo di un'altra curiosità che ci sta da farvi vedere lo sapete ragazzi ieri mattina è uscita la skin leggendaria il dj ops adesso non mi ricordo bene il nome corretto con precisione insomma la controparte femminile del dj lama tra l'altro ieri ci sono c'è stato anche dato il deltaplano equalizzatore che ovviamente va a completare il set del lama meraviglioso come deltaplano ma ragazzi se volete sapere che cosa c'è nascosta dietro quella faccia lì dietro quegli occhiali ragazzi è un po inquietante però è questo è come si dice siamo andati a vedere con il con il drone libero e c'è questa specie di robo dietro allieno che è veramente un po brutto da vedere ma non è altro che la testa nascosta della della dj sgagagaga che non mi ricordo il nome andiamo a parlare di cose veramente un pochettino più nostalgiche nello stesso tempo anche però ragazzi interessanti ovviamente sto parlando delle location che purtroppo in questo anno che appena passato si sono perse ragazzi voglio sapere se le riconoscete tutte non ve le voglio stare a dire ma i magazzini mamma mia a rinaio dell'anno scorso c'erano i magazzini ragazzi o addirittura se andiamo a vedere in alto nell'estrema destra il laboratorio della latrina o se guardiamo in centro addirittura uno delle mie location preferite le tre fabbriche ragazzi insomma è molto nostalgica questa fotografia se non se me lo concedete però ci stava da farvela vedere ditemi se riuscite a riconoscerle tutte ma passiamo di nuovo ragazzi in uno spezzone questo è tratto proprio dal mio dal mio gameplay ragazzi voglio farvi vedere che da ieri mattina quindi neanche un giorno è passato se noi andiamo nella nel tunnel segreto quello che si è formato quello che si sta rivelando sotto al castello di ghiaccio beh ragazzi avremo già l'accesso alle uova e sono davvero fantastiche da vedere dal vivo piuttosto che in un'immagine ragazzi guardate lasciate perdere che io ballo come un deficiente se noi spacchiamo questo pezzo di muro raga guardate un po' ci sono le uova raga ci sono le uova non si possono rompere ma non è finita qua ragazzi non è finita qua vi porto in questo tour ragazzi della parte ancora non accessibile dall'alto del castello ma ufficialmente accessibile dal basso addirittura troviamo dei chest raga che si possono tranquillamente aprire ma guardate le cose più inquietanti ragazzi andando avanti vedete già lì sulla parte sinistra del muro degli strumenti che sono strumenti di tortura e per la prima volta ragazzi per la prima volta sembra essere visibile il sangue su fortnite a me sembrano macchiati di sangue non dico niente qua non dico niente ragazzi lascio a voi i vostri giudizi non voglio esprimere il mio ci sono delle anfore un pochettino strane ma mentre andavo avanti ragazzi a esplorare questa parte esterna del del cubo di ghiaccio di questo cubo gigante di ghiaccio guardate un pochettino ragazzi che oggetto stranissimo si trova più o meno qua sotto adesso questa è una stanza sembra una sala delle torture raga è un po strana sinceramente da vedere non mi ha un po spiazzato per essere fortnite una stanza del genere non non lo so guardate guardate là davanti ragazzi un altro chest intanto lo sapete che cos'è quella cosa lì ancora strumenti di tortura qua sulla sinistra raga ancora sporchi di sangue qua ragazzi avevo paura di spaccarla quindi adesso tornerò un pezzettino indietro ma guardate quella lì ragazzi è una vergine di ferro la vergine di ferro per chi non lo sapesse è uno strumento di tortura medievale che consisteva nell'essere un sarcofago in verticale presente quello dove mettono dentro le mummie solo che questo sarcofago aveva spuntoni sia da una parte che dall'altro e dentro vi ci si mettevano delle donne che avevano compiuto delle adulteri in poche parole guardate che roba inquietante ragazzi per essere un fortnite nel senso per il range di giocatori che possono avere noi possiamo continuare ad andare avanti ragazzi qua ci sono degli altri chest ci sono delle altre cose ma il nostro tour ragazzi comunque con il nostro fortnite con il nostro castello finisce qua io ragazzi vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video un bel pollicione in su andate da fortnite italy iscrivetevi al mio canale noi ci vediamo presto ciao